8 elementi che indicano che ti trovi in un ambiente di lavoro funzionale. Numero 1. Esiste il lavoro di squadra. Non esistono i tornaconti personali. Tutti si va nella stessa direzione. Numero 2. Quando c'è un problema, si cerca la soluzione, non il colpevole. Numero 3. Esiste la meritocrazia. Ogni persona viene premiata a seconda delle proprie capacità. Numero 4. Le regole sono uguali per tutti. Non ci sono i preferiti o interessi privati. Numero 5. Non ci sono pettegolezzi. Si sta bene insieme, si coltiva il buon umore e si pensa alle soluzioni. Numero 6. Esiste un piano di sviluppo ben preciso. Nulla è lasciato al caso. Numero 7. Le persone capaci e meritevoli ricevono premi e gratificazioni. Numero 8. Non esistono i protetti dei capi. Ognuno viene premiato e gratificato a seconda delle sue capacità. Ricordatelo. Ricordati. Ricordati. Grazie a tutti.